Iguard è buono la tecnica dei sei cappelli se usiamo un altro vendarello forse in mezzo usiamo questo allora Iguard dice che una fase fondamentale in un lavoro di miso è quella della raccolta dei dati che lui chiama scappello bianco raccolta dai adesso nella spavolta consecutiva poi entriamo nel mezzo un'altra fase facciamo proprio il colore visto che ce l'abbiamo è quella del cappello rosso è una fase nella quale lavoriamo sulla relazione mettiamola così sulla relazione con i partecipanti poi ho il cappello nero per cui tiro fuori provvedete subito la similitudine con la svolta tutti gli aspetti negativi per poi passare al cappello giallo fase nella quale mettiamo fuori tutti gli aspetti positivi poi vi dico perché i cappelli magari deve leggere qui per poi passare al cappello verde che è quello delle idee e infine chiudere con il cappello blu che è quello della pianificazione e programmazione dell'attività grazie a tutti